E' ancora scosso Matteo Ghidotti, il bagnino di 18 anni che ieri mattina ha prestato i primi fondamentali soccorsi al ragazzino di 13 anni colto da malore nella piscina del centro sportivo Stradivari e ricoverato in condizioni stazionari all'ospedale di Bergamo. Ieri è stata una giornata molto lunga, ha detto Matteo, che ci ha raccontato come sono andate le cose e le sue emozioni. Innanzitutto ero sotto shock all'inizio, appena ho visto il ragazzo in difficoltà e la sensazione quando sei lì è proprio di andare avanti e di provare a salvare la vita il più possibile al ragazzo in tutti i modi possibili che io conosco soprattutto perché il mio obiettivo era assicurare che il ragazzo arrivasse nelle condizioni migliori all'arrivo dei soccorsi. Quindi la sensazione era quella di andare avanti e non sentivo la stanchezza, non sentivo anche la percezione del tempo in realtà perché mi dicono che sono passati 8 minuti e che io proprio non ho sentito in questi momenti. Hai avuto un bel sangue freddo, ma è stato comunque anche un lavoro di squadra grazie anche alle persone che ti hanno aiutato. Gli accompagnatori hanno svolto un ruolo fondamentale, innanzitutto nell'individuare che il ragazzo aveva un problema bello importante e hanno subito tirato fuori loro, il ragazzo l'hanno messo subito al bordo vasca, tempestivi proprio, il loro intervento è stato tempestivo. Appena sono a corso anch'io abbiamo proceduto anche grazie al loro aiuto che hanno chiamato i soccorsi, alle mie indicazioni che ho dato i soccorsi, è stato proprio grazie a loro che siamo riusciti a portare il ragazzo in condizioni migliori possibili. Sei giovanissimo, è la prima esperienza di questo tipo che ti capita, credo. Sì, sì, la prima esperienza, anche molto imprevista perché è il mio terzo mese di lavoro e soprattutto conosco Bagnini comunque che fanno questo lavoro da anni e anni, a cui non è successo assolutamente niente del genere, quindi anche io ho 18 anni in questo momento, al terzo mese di lavoro avere davanti agli occhi un'emergenza del genere è stato molto scioccante per me comunque. Pensavi che avresti potuto fare di più, invece poi dopo alla sera di ieri ti sei tranquillizzato? Sì, mi ha tormentato un po' il pensiero che vagava per la testa, era potevo fare di più, ho sbagliato qualcosa, in realtà mi hanno tranquillizzato tutti i medici del pronto soccorso, mi ha tranquillizzato il direttore della Starivari, il mio datore, tutti i testimoni che erano lì mi hanno assicurato che ho fatto un gran lavoro in realtà e sentire ripetutamente queste assicurazioni mi hanno comunque permesso di calmarmi e capire che quello che avevo fatto era quello che dovevo fare.